buonasera ragazzi buonasera a tutti ciao Francesco ciao Marin aspettiamo qualche secondo che entra la gente buonasera Luca ragazzi purtroppo non mi ricordo non mi sono scritto chi aveva fatto le domande però piano piano ci arriveremo me le sono scritte tutte quante le migliori quelle che ho pubblicato in precedenza nelle storie che ho pubblicato ci sono anche nome e cognomi cercherò di rispondere a tutte le domande anzi sicuramente risponderò a tutte le domande che mi avete già fatto poi se nel frattempo volete farmene delle altre ben venga dunque volevo innanzitutto dirvi che c'è una cosa che mi sta un po' che insomma mi chiedono che sicuramente la gente risponde più velocemente a un che macchina mi compro rispetto a un che ne pensate del vostro futuro quali sono i vostri obiettivi futuri il che significa che come paese come stato come popolazione siamo più interessati al nostro finto status symbol che al come fare soldi no quindi più a come uno li spendo comunque come fa finta di spenderli piuttosto che a come veramente li fa io ho vissuto mi ricollego a una domanda che mi è stata fatta ho vissuto per parecchio tempo insomma parecchi mesi a monte carlo e vi posso garantire che le persone più ricche del mondo che io ho conosciuto a monte carlo persone con patrimoni di 10 20 30 miliardi di euro giravano con auto assolutamente umili con smart elettriche con i3 elettriche in tutte auto assolutamente non supercar cosa che va a testimoniare il fatto che non è importante con che macchina giri ma è importante quanto sia gonfio il tuo portafoglio quanto sia carico il tuo conto corrente quanti comunque quanto riesci a generare utili ogni anno entrando un po' nella questione delle domande che mi avete fatto e ho aperto la diretta con questa cosa di monte carlo perché perché la prima domanda che mi è stata fatta è voglio una prova del tuo successo in realtà partiamo dal presupposto che io non devo dare a nessuno prova del mio successo quantomeno non devo dare prova economica no nel senso che non devo dimostrare del mio successo in un modo piuttosto che nell'altro io ho delle aziende ho avuto delle aziende ho venduto altre aziende ne sto costituendo delle nuove ne sto comprando delle nuove che alcune sono andate meglio altre sono andate non dico peggio ma insomma meno bene rispetto ad altri ma comunque tutte mi hanno permesso sempre di vivere una vita agiata di generare utili di pagare stipendi a tutti quanti di pagare sempre i fornitori di pagare tutto quanto quindi prova del mio successo non è una cosa una domanda che è molto simpatica no anche perché non riesco a capirla nel senso che cosa significa prova del mio successo devo dimostrarti che riesco che giro con una macchina che secondo te è importante o piuttosto devo mostrarti forse il mio 740 o magari devo mostrarti il mio controcorrente non lo so è una domanda alla quale sto rispondendo ne parlo con voi ma comunque non capisco la necessità la concretezza o l'interesse di questa domanda seconda domanda come faccio a fare un'operazione immobiliare senza fondi senza utilizzare il meccanismo della permuta? allora come fai? dunque nel mio corso di speculazione immobiliare ne ho un po' parlato non è sicuramente semplice fare un'operazione immobiliare partendo completamente da zero chiaro è che per poter chiudere un'operazione immobiliare hai bisogno di fondi o li trovi da un investitore o li trovi da un finanziatore quindi può essere una banca o li trovi da un tuo parente o li trovi da un socio quindi proponi l'operazione tu metti l'operazione e lui mette i soldi o devi fare obbligatoriamente la permuta è un po' difficile che tu riesca a farlo senza permuta, senza finanziatori, senza investitori e senza capitale è praticamente impossibile dov'è che puoi cercare di giocare facendo una doppia permuta quindi la permuta al costruttore e la permuta al proprietario dell'immobile che cosa voglio dire? io mi metto, anziché a mettermi nei panni del proprietario mi metto nei panni del costruttore faccio finta di essere un costruttore vado dal proprietario dell'immobile e dico guarda tu metti l'immobile, io faccio i lavori tu ti prendi x appartamenti, io mi prendo y appartamenti in questo modo io mi sono messo da parte del costruttore e mi sono accaparrato la possibilità di avere la proprietà degli appartamenti in cambio dei lavori poi trovo un costruttore che se li prende in permuta e da questo gioco dovrei riuscire a trattenermi un qualcosa un appartamento, due appartamenti in base chiaramente alla grandezza dell'operazione questa è l'unica cosa che ti posso consigliare così in una diretta in due minuti altra domanda se volessi investire 2-3 mila euro al mese ogni mese qual è il modo in cui riesco a generare un maggior profitto entro i 5 anni? dunque cerchiamo di capire perché ci sono state parecchie domande ora non le ho pubblicate tutte perché erano più o meno gli stessi argomenti se uno investe 2-3 mila euro al mese tutti i mesi e vuole un profitto entro 5 anni il maggior profitto possibile analizziamo la parte iniziale della domanda se uno investe 2-3 mila euro al mese benissimo come faccio ad investire 2-3 mila euro al mese? ho due possibilità o faccio un mutuo, un finanziamento quindi mi prestano i soldi io li rimborso con 2-3 mila euro al mese allora io ho un capitale da investire e posso investire su un'attività se invece io investo solo 2-3 mila euro al mese perché non mi hanno dato un finanziamento vuol dire che io darò 2-3 mila euro al mese per esempio a un fondo di investimento questo fondo di investimento avrà bisogno di tempo per poter generare degli utili quindi domande del genere sono sempre un po' forvianti nel senso che non c'è una risposta secca se ti do 2-3 mila euro al mese qual è il maggior profitto in 5 anni? non lo so, bisogna vedere rischio del capitale, non rischio del capitale garanzie, non garanzie possibilità di rientrare prima non possibilità di rientrare prima quindi ci sono troppe varianti e troppe variabili per cui queste sono domande le quali non è semplice rispondere se chiaramente adesso sei in diretta colui che me l'ha fatta e me la scrive un po' più chiara sarò sicuramente felice di risponderti quarta domanda io ho un progetto immobiliare come posso trovare qualcuno che investa sul mio progetto? in realtà la domanda che mi ha fatto questo ragazzo è dove trovare qualcuno invece io l'ho cambiata in come trovare qualcuno perché io penso che se un'operazione un'attività funziona e il progetto è ambizioso ma ha dei parametri concreti il capitale o l'investitore o il finanziatore si trova sempre quindi come puoi trovare qualcuno che investa sul tuo progetto? sicuramente preparando un bel business plan una presentazione fatta bene con dei dati concreti più dati possibili a quel punto puoi prendere tutta la tua documentazione e presentarti o a una banca o a un investitore o a un finanziatore ti serve un investitore? se hai un'operazione ben fatta ben strutturata io sarò il primo a volertela finanziare altra domanda questa è più che una domanda è una mia considerazione personale cioè mi è stato chiesto quali sono i miei obiettivi a breve termine i miei obiettivi a medio termine e i miei obiettivi a lungo termine dunque i miei obiettivi al breve termine sono sicuramente i più semplici ai quali riesco a rispondere perché il mio obiettivo a breve termine è far partire Capitals riuscire a quotarmi e siamo insomma a giorni stiamo andando avanti stiamo lavorando giorno dopo giorno per chiudere questa operazione che ho iniziato ormai quasi tre mesi fa e acquistare le aziende e gli immobili che mi stanno proponendo giorno dopo giorno e che sto iniziando a parametrare a concretizzare e a chiudere come operazione quindi ripeto nel breve termine Capitals era il primo obiettivo del 2020 e l'ho raggiunto quotazione sulla borsa digitale e entro un paio di settimane raggiungo anche questo e acquisire un centro commerciale che ho già visionato e trattato un immobile che ho già visionato e trattato e un'azienda che ho già visionato e sto concludendo le trattative questi sono gli obiettivi nel breve termine ossia entro il 2020 obiettivi nel medio termine e per me nel medio termine sono cinque anni è quotare in borsa la società che io sto trattando e che vorrei acquisire questo è il mio obiettivo entro i cinque anni e con questa società acquisire un altro gruppo che sta nello stesso settore che sta un po' in difficoltà e raggiungere un fatturato che sfiorerà gli 800 milioni questa è un'azienda che oggi ne fattura 415 acquisendo l'altra dovrebbe arrivare a 600 il mio obiettivo entro cinque anni è quotarla in borsa e raggiungere un fatturato di 800 milioni obiettivo a lungo termine il mio obiettivo a lungo termine è sempre lo stesso ormai da anni non è un obiettivo semplice è un obiettivo molto ambizioso sempre lo stesso entrare nella lista Forbes non sapete che cos'è vi invito ad andare su google mettete lista Forbes Forbes si scrive e vedete che cosa significa altra domanda media durata dell'operazione immobiliare dunque è una domanda molto generica che non ha una risposta definitiva ma ha tante varie risposte vi dico una cosa la media durata dell'operazione immobiliare per me per i miei parametri per i canoni che io mi sto dando investendo con capitals in sviluppo e speculazione immobiliare sono 36 mesi cioè per me un'operazione deve durare 36 mesi se va oltre inizia a diventare un'operazione complessa ma questo perché perché io con il mio fondo devo comunque pagare rimborsare tutti gli anni il 5% agli obbligazionisti per una persona che magari fa solo ed esclusivamente il settore immobiliare lo fa con soldi propri magari sono parametri diversi la cosa dipende la media della durata dell'operazione immobiliare dipende non solo tanto dal mercato non tanto dalla durata dei lavori quanto dalla parte burocratica purtroppo in Italia la parte burocratica conta tantissimo e quindi nella questione tempistiche è molto importante ci fermiamo un secondo perché c'è una domanda di Luca che è il ragazzo che ha chiesto se investo 2-3 mila euro al mese eccetera eccetera vediamo intendevo se volessi far fruttare questi 2-3 mila euro al mese giusto per non farli svalutare in banca tra inflazione e spese di conto corrente dove posso investire ok adesso il discorso è più chiaro dove puoi investirli puoi investirli o in un fondo di accantonamento però anche lì i rendimenti non sono atomici oppure devi comprarti delle obbligazioni che ti danno una rendita chiaramente quando hai 2-3 mila euro al mese quindi hai un target mensile che tu ogni mese riesci a ricaricare questo fondo ti conviene fare un fondo di accantonamento ripeto non avrai dei rendimenti molto alti ma avrai anche una garanzia abbastanza elevata quindi credo che questa sia la risposta più soddisfacente se poi invece puoi investire con un rischio maggiore sperando ipotizzando e puntando a obiettivi di rendimenti più alti dovrai sicuramente fare un finanziamento farti dare un capitale investirli in una tua attività o in un immobile e con quei 2-3 mila euro al mese ripagare il finanziamento il mutuo o gli investitori vado avanti altra domanda molto interessante diversificazione è importante e strategicamente utile fare una diversificazione e quando è utile farla dunque è sicuramente utile diversificare vi sconsiglio di farli i primi anni di attività perché nei primi anni dovete assolutamente concentrare tutti voi stessi sull'attività che avete scelto bisogna che voi vi concentriate su quello che state facendo e che non buttate o disperdete energie e capitali su altre situazioni nel momento in cui il vostro business principale si è assestato e iniziate a generare degli utili questi utili potrebbe essere interessante dividerli una parte nel sviluppo dell'azienda stessa dell'attività stessa e un'altra parte nella diversificazione diversificazione su settori e business che non siano completamente diversi dal vostro business principale ma neanche troppo vicini al vostro business principale altrimenti non sarebbe una diversificazione altra domanda questa domanda è una di quelle domande che a me non piace tanto perché qual è il settore che mi permette di avere un guadagno nel breve termine ossia 9-10 mesi allora non esiste guadagni facili un settore che ti permette di avere un grosso utile in 9-10 mesi non è un settore che io posso conoscere un settore che ti può permettere di fare un buon guadagno in 9-10 mesi può essere il settore immobiliare se riesci a trovare un'operazione piccolina che ti permette di chiuderla in 9-10 mesi allora sì è il settore immobiliare chiaramente stai attento a non forzare troppo l'operazione perché poi da possibilità di guadagno potresti avere una possibilità di perdita mi fermo un secondo e leggo la domanda di Vittoriano Gentile faresti questa operazione allora costruzione commerciale da 1500 metri quadri costo di costruzione più terreno più spese accessorio un milione contratto diretto con Conad 6 più 6 primi sei anni bloccati 70.000 euro l'anno allora dunque il nostro amico ci dice io compro un commerciale da 1500 metri quadrati praticamente gli costa l'operazione un milione gli danno 70.000 euro se leggo bene quanti zeri sono scusate il mio vicino sono 1,2,3,4,5 sì 70.000 euro d'affitto significa che ti danno il 7% lordo io la farei secondo i miei parametri no perché io cerco dei rendimenti più alti perché io devo pagare gli obbligazionisti al 5% quindi io con Capitals questa operazione non la farei non ti nego però che è un'operazione abbastanza interessante per un investitore singolo che non deve chiedere soldi a nessuno e che investe il proprio patrimonio quindi non è un'operazione da scartare a prescindere anche perché Conad è un buon pagatore e che il 7% lordo non è proprio basso 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 altra domanda parametri per decidere se arredare o semi arredare un appartamento per venderlo dunque per quanto mi riguarda ti direi uno se è un appartamento piccolo lo arrederei se è un appartamento grande non lo arrederei perché perché una persona che tende a comprare un appartamento molto grande ha un budget molto più alto e chiaramente tende a ristrutturarlo un po' come vuole o comunque arredarlo un po' come vuole su appartamenti piccoli direi di sì su affitti direi assolutamente sì domande che mi state facendo leggiamo allora sì vittoriano l'avevo capito non da fondo come privato sì probabilmente lo farei non è l'investimento del secolo ma ti direi quasi di sì allora bel sito ristorante prendere appartamenti in affitto e riaffittarli a notte sulle viare e piattaforme che ci sono oggi sì è un business che sta funzionando molto in Italia non è regolamentato benissimo però sfruttiamo il momento potrebbe essere sicuramente una buona operazione del diciamo del turismo dell'affitta camera eccetera eccetera stai attento ai regolamenti bene stai attento alla questione della tassazione però sì potrebbe essere un settore interessante c'è una domanda molto 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 interessante che è sugli UTP non so se riconoscete ma è una domanda un po' complessa che me la tengo per dopo altra domanda che mi è stata fatta posso vendere una casa che vale 25.000 euro a mia figlia facendo finta che costa 150.000 euro per prendere un mutuo da 100.000 euro assolutamente no perché perché la banca non ti dà il mutuo perché perché la banca fa una perizia prima di darti il mutuo se la perizia risulta 100.000 euro te ne dà 80 80% se la perizia è 30.000 euro non te ne darà mai 150 quindi tutto dipende dal valore che riesce nella perizia altra domanda questa è una domanda abbastanza interessante accesso al credito è più facile ora o era più facile prima dunque l'accesso al credito a mio parere era più facile prima in che senso prima i tassi erano altissimi io parlo spesso è anche argomento di discussione con mio padre quando lui mi parla di quando lui era giovane che ha comprato casa il mutuo gli hanno dato a tassi di interesse 10% 12% ma tassi di interesse davano fuori di testa oggi ci sono tassi di interesse bassissimi addirittura alcuni hanno preso mutui sotto all'1% quindi tassi di interesse bassissimi però mentre prima era tutto più sulla fiducia tra il direttore della filiale almeno per i piccoli mutui tra il direttore della filiale e l'imprenditore o la persona o la famiglia oggi è tutto computerizzato è tutta una questione di rating e se l'azienda o la persona fisica la partita IVA chiunque esso sia rientra nei parametri del rating allora sì se invece non rientra in quei parametri e non è semplicissimo rientrare in quei parametri è sicuramente più difficile come accesso al credito cosa vera è che però le banche hanno un sacco di soldi da investire considerate che noi come paese italiano siamo uno dei paesi se non addirittura il primo paese con la maggior con i maggiori depositi in banca cioè siamo delle persone che risparmiano molto e si tengono molti soldi in banca questo anche dovuto al fatto a mio parere di un po' il tra virgolette per mettere il termine terrorismo cioè la paura che ci mettono continuamente in media c'è la crisi c'è la crisi c'è la crisi e tendiamo a risparmiare e lasciarci i soldi in banca quindi in senso generale era più facile prima o è più facile ora da una parte era più facile prima da una parte è più facile ora più facile ora perché i tassi di interesse sono molto più bassi se rispettiamo il rating e risparmiamo molti soldi di interesse era più facile prima perché i tassi di interesse erano molto più alti ma era molto più una questione di conoscenza personale con il direttore un'altra domanda è stata hai vissuto parecchi mesi a Monte Carlo quali sono i pro e i contro di questa città chiamiamola città dunque i pro sono a mio parere molteplici come sono i contro come molteplici sono i contro allora quali sono i pro i pro di vivere a Monte Carlo sono una città pulitissima il clima è da paura perché comunque c'è il mare c'è la montagna si vive benissimo il clima va sempre non fa mai freddissimo e non fa mai caldissimo si vive bene perché c'è un senso civile è altissimo non c'è casino con le macchine tranne insomma il mese d'agosto che c'è il turismo ma durante l'anno non c'è mai caos non c'è mai confusione con le auto non esiste praticamente la delinquenza nel senso che non ci sono grossi furti non ci sono rotture delle macchine rubano le macchine spaccano lo specchetto spaccano il vetro non c'è problema lasciare le case aperte le macchine aperte non c'è immondizia in giro è tutta la città pulitissima su tutto questo punto di vista è una bomba è veramente una delle città credo sia uno dei migliori luoghi dove uno possa andare a abitare il contro un altro problema di questo posto è che chiaramente chi vive a Monte Carlo e ci vive veramente e dimostra di poterselo permettere cioè può prendere la residenza in due modi si prende la residenza o dimostrando di poterselo permettere nel senso io sono giunto è ricco mette deposita sul conto corrente Monegasco x euro rimane vive lì vive di rendita e non ha problemi oppure deve dimostrare di lavorare quindi o di avere un contratto o di avere un'azienda in questo modo prendendo una casa anche in affitto e dimostrando di poterci vivere ti danno la residenza se tu hai la residenza Monegasco non paghi tasse zero assolutamente zero sia sulle società sia sulle persone fisiche cosa che è un grandissimo un grandissimo pro altro pro è sicuramente il diciamo le pubbliche relazioni perché comunque ci sono dei grandissimi imprenditori dei grandissimi personaggi che vivono a Monte Carlo è sicuramente un posto che ha tantissimi ristoranti in cui si mangia bene tantissimi bei locali tantissimi bei negozi quindi questi sono tutti i pro di Monte Carlo i contro sono che è una città molto noiosa durante l'anno è una città molto piccola e quindi le cose da fare più o meno sono sempre le stesse e non è una città molto attiva molto operativa io mi sono reso conto che a Monte Carlo si fanno soldi solo muovendo soldi cioè fai un fondo di investimento vivi da Monte Carlo investo qui investo lì investo su investo giù e ok muovo soldi e faccio soldi ma se devi avere fare una vita molto dinamica molto attiva non è proprio una città top risponde al volare Belloni zero tasse solo su operazioni fatte lì assolutamente sì nel senso se tu hai una società che fattura il 51% in Italia il 49% fattura a Monte Carlo paghi le tasse in Italia se invece la maggior parte del fatturato lo fai a Monte Carlo e vendi anche all'estero allora le tasse non le paghi perché paghi solo a Monte Carlo chiaro è che dov'è che è la cosa buona sulle tasse più che altro sulle tasse sul reddito nel senso che se tu hai un'azienda in Italia paghi le tasse in Italia sull'utile dell'impresa in Italia quando vai poi a distribuirle ti prendi il dividendo e tu come persona fisica non paghi le tasse in Italia perché vivi all'estero e paghi le tasse nel tuo paese di residenza però diciamo che vi posso assicurare che non è più facile come una volta che ci andavano per i padri oggi ci vai io ci sono andato perché volevo viverci non perché mi interessasse di non pagare le tasse anche perché poi oltretutto sono ritornato in Italia e quindi non ho usufruito chissà quanto tempo di questa agevolazione l'ultima domanda che mi è stata che mi sono tenuto oltre a quelle che poi se continuate a farmele mi fa piacere e continuo a rispondere è sugli UTP i crediti UTP non so se sapete cosa sono in inglese sono unlikely to pay cioè delle insolvenze probabili dunque noi conosciamo più frequentemente ormai gli NPL che sono ormai quei crediti che si chiamano deteriorati quei crediti immobiliari cioè banchi che hanno prestato soldi a imprese a persone a famiglie queste famiglie non pagano più ormai sono insolventi ormai stanno in hanno fatto un pignoramento le banche quindi il debitore non esiste più si va in contenzioso e le banche mettono i mobili all'asta gli UTP invece sono la fase diciamo prima cioè la banca si rende conto che la banca o comunque il creditore si rende conto che il debitore sta andando in difficoltà ancora paga però capisce che c'è qualche problema vi faccio un esempio semplice io sono una banca ho prestato 100.000 euro a un ragazzo o una ragazza che si sono sposati e hanno comprato casa si separano ognuno uno va alla parte una all'altra separazione brutta l'uomo deve alla donna x euro al mese di mantenimento la donna non lavora più ha perso il lavoro chiaramente il direttore della banca già sa che quella è una situazione a rischio perché i due non fanno più cumulo non pagano più insieme il mutuo perché magari uno dei due ha perso il lavoro perché l'altro sta in difficoltà perché deve pagare anche gli alimenti alla moglie e quindi questo crea una situazione di tra virgolette attenzione questa attenzione crea i crediti UTP questi crediti UTP stanno andando molto sono stati regolamentati da poco ma sono un botto sono tantissimi pensate che a fine 2017 c'erano 94 miliardi di crediti UTP cioè crediti che da lì a poco tempo sarebbero diventati insolventi vi faccio un esempio la surroga del mutuo cioè io ho un mutuo io non riesco sto in difficoltà sto per dire alla banca guarda che non riesco più a pagare arriva un terzo e dice guarda cara banca entro io al posto di Lorenzo pago io il mutuo le rate al posto di Lorenzo chiaramente in questo caso Lorenzo non prende un centesimo tutto quello che ha pagato finora lo ha perso però non è andato nello stato di insolvenza e quindi non ha creato contenziosi che cosa succede alla banca la banca niente non succede nulla perché perché è subentrato un terzo che paga al posto mio che cosa succede al terzo che paga al posto mio il terzo al posto mio ha risparmiato perché perché tutta la parte che io avevo pagato finora lui non la paga altra possibilità saldo e straccio come lo conosciamo tutti quanti io dico guarda cara banca io sto andando in difficoltà non riesco più a pagarti ti devo dare 200.000 euro a 2.000 euro al mese non ci riesco se vuote ne lo subito 120 chiudiamo così la nostra posizione e chiaramente è una situazione sicuramente molto 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 interessante le stanno ripeto li stanno regolamentando quindi non è più semplice come era all'inizio fare queste cose qui però è sicuramente un'ipotesi molto interessante per poter sviluppare qualche operazione immobiliare nel fine adesso ti rispondo a fine 2019 è stato istituito il primo fondo che gestisce i crediti UTP è stato istituito dal ministero dell'economia gestiscono crediti questo fondo gestirà crediti dai 3 ai 30 milioni di euro di imprese presenti nel settore immobiliare che cosa significa questo fondo di investimento presta soldi alle cioè va in banca e di giocare a banca quanti soldi ti deve dare lì Lorenzo o SRL mi deve dare 3 milioni benissimo ottenerò io 2,5 vado da Lorenzo e poi ci penso a parlare con Lorenzo in questo modo che cosa succede che la banca prende soldi e sta tranquilla il fondo si è fatto carico di questa situazione gestisce il pacchetto immobiliare acquistandolo dall'impresa e magari risviluppandolo o aiutando l'impresa a riprendersi e quindi a risviluppare questo determinato settore poi magari se volete facciamo anche una diretta specifica su questa tipologia di crediti UTP perché c'è da parlarne un po' insomma li posso acquistare normalmente gli UTP o mi serve la tub 106 non puoi acquistarli normalmente da privato Gaetano Natoli da privato faresti questa operazione in permuta con un costruttore allora zona Milano vicino all'area Expo palazzina di tre piani 60 metri quadri per piano totalmente da ristrutturare costo acquisizione 150 mila euro eh ok la compra 150 sono 180 metri quadrati quindi le compro a un prezzo più basso mille euro al metro qual è la parte successiva se continui e termini ragazzi avete altre domande sapete che io sono aperto a qualsiasi tipologia di domanda mia personale business immobiliare project finance corsi attività chi più ne ha più ne metta quindi non vi preoccupate fatemi domande di ogni genere che io sono pronto a rispondervi a qualsiasi cosa che chiaramente sia nelle mie capacità nelle mie competenze nelle mie possibilità altrimenti se non avete altre domande io vi saluterei e vi auguro una buona cena aspettiamo ancora qualche minuto vediamo se qualcuno di voi ha qualche domanda interessante spero di aver risposto a tutte di controllo sì ho risposto a tutti quanti quella sulle UTP è una domanda molto interessante se c'è il ragazzo che me ne ha fatte mi scrive in privato che magari ne parliamo un po' meglio allora FBbet quando pensi si riprende il mercato immobiliare beh in realtà secondo me il mercato immobiliare si è già ripreso dipende da dove nel senso che il mercato immobiliare si è ripreso guardi Milano non c'è un immobile da comprare a un prezzo buono Roma idem con patate ci sono delle province ve l'ho scritto tempo fa in una storia che stava sul sole 24 ore che addirittura stanno facendo incremento annuale dell'8% sul settore immobiliare quindi è in crisi ancora il settore immobiliare non obbligatoriamente alcune zone sì alcune zone no ritorneremo ai prezzi che c'erano una volta sicuramente no ma non perché siamo in crisi ma perché prima il mercato immobiliare era drogato altra domanda perché ti sei lasciato con Diana semplicemente perché in realtà il nostro rapporto era un rapporto un po' diverso non è che siamo mai stati proprio fidanzati comunque ognuno ha preso le sue strade perché lei preferiva più una vita divertimento io chiaramente ho dei impegni lavorativi che non mi permettono di divertirmi H24 e quindi con estrema amicizia ci siamo semplicemente le nostre strade si sono divise siamo rimasti in ottimi rapporti comunque Vinci grazie Lorenzo come si può comprare un UTP dobbiamo fare una società veicolo sì assolutamente sì ma comunque scrivimi poi in privato magari ci facciamo una diretta sull'UTP anche perché voglio darvi delle risposte più precise dettagliate quindi me la studio un po' Vittoriano Gentile corso come quello sulla speculazione immobiliare Roma assolutamente sì le stiamo programmando non farò corsi a febbraio probabilmente non farò corsi a marzo ripartiremo da fine marzo primi di aprile per via del coronavirus che comunque sta creando problemi e difficoltà negli spostamenti in Italia quindi ho rimandato per questo ma state tranquilli sì faremo altri corsi immobiliari e magari anche a Roma Luca De Florio come fare ad aprire un'azienda in uno stato a tassazione zero e vivere in Italia sempre se si può fare no Luca non si può fare se vivi in Italia le tasse si pagano in Italia se vivi all'estero e lavori in Italia le tasse le paghi in Italia io ho costituito una società in Irlanda capito al seno una società irlandese ma tutte le operazioni che faccio in Italia io ci fai con le tasse in Italia quindi è inutile se lo fai stai evadendo è un reato e non si fa Antonio Musero nel mio comune un'azienda ha fatto la sostituzione delle plafoniere dell'illuminazione pubblica in Project Finance avrebbe dovuto guadagnare risparmio sul consumo il comune non paga le bollette allora sì è un Project Finance molto remunerativo in realtà non ha cambiato le plafoniere ha cambiato la lampada cioè da consumo normale ha fatto un efficientamento energetico si chiama Smart City cioè ha messo le lampade a led sostituendo le lampade normali questo crea un risparmio energetico il comune continua a pagare la bolletta vecchia questo gap crea il guadagno per l'azienda dopo 8 anni il comune riprende possesso e paga la bolletta attuale con il risparmio energetico se il comune non paga l'azienda deve far di causa purtroppo è così Nicolò 94BS pensi che il coronavirus possa far grossi danni all'economia italiana penso che la bagatezza del popolo italiano i danni li faranno ma non il coronavirus ma tutte le cazzate che ci stanno raccontando in televisione l'allarmismo che stanno creando è un problema sicuramente ma stanno morendo solo anziani che avevano già dei problemi il tasso di mortalità è bassissimo il tasso di contagio è molto alto quindi dobbiamo prevenire dobbiamo stare molto attenti cerchiamo di seguire non voglio ripeterlo ma insomma seguire tutto quello che ci stanno dicendo nei telegiornali ma non creare un allarmismo enorme chiaro è che io onestamente parlando domani mattina non vado dove c'è il fogoraio cerco di muovermi meno cerco di lavarmi le mani più possibile cerco di avere delle precauzioni maggiori ma ragazzi facciamo le corna speriamo che noi insomma siamo giovani il tasso di mortalità per i ragazzi dai 20 ai 50 anni 45 anni è dello 0,2% speriamo di cazzo di non rientrare in questo 0,2% sicuramente però ripeto che sta facendo già danni per esempio alla finanza ieri il semib ha perso il 5 il 43% quindi chi sta facendo il danno in realtà non è il coronavirus ma sono le televisioni che ci bombardano di notizie e cazzate Luisella Antonelli cosa consigli di fare per chi ha degli immobili in zone in cui il mercato è saturo invia la volontà di svendere in quanto non ci sono problemi economici o gli affitti o cambi destinazione d'uso o utilizzali quantomeno come collaterali cioè li utilizzi per metterli a garanzia in banca cioè prendo un immobile è fermo non fa niente mi dà comunque un valore patrimoniale un patrimonio immobiliare vado in banca prendo un mutuo mettendo a garanzia quegli immobili e posso comprarmi qualcosa un'attività che magari mi dà più remunerative Antonio Museri cioè il project finance comporta un rischio notevole che è legato al fatto che i comuni non pagano adagiando sugli allori allora Antonio Musero ti dico sì per quanto riguarda il project finance sull'efficientamento energetico purtroppo dipendiamo dal comune che ci deve pagare e quindi sì sui project finance che facevo io sui cimiteri non dipendevo dal comune perché i soldi li prendevo direttamente dai cittadini e quindi io problemi di pagamento dai comuni non ne ho mai avuti idem per i parcheggi costruisco un parcheggio mi pagano gli utenti del parcheggio e quindi non ho problemi se faccio project finance sull'efficientamento energetico e mi deve pagare il comune chiaramente devo sapere che c'è anche questa possibilità Luca De Florio se vendessi il servizio della mia azienda inglese in Italia pagherai per forza i tassi in Italia? sì assolutamente sì a meno che il fatturato non è maggiore in Inghilterra piuttosto che in Italia cioè se tu fatturi che ne so 100.000 euro l'anno di cui 90 di fatturi in Inghilterra e 10 in Italia paghi i tassi in Inghilterra se vai 51 in Italia e 49 in Inghilterra paghi i tassi in Italia Danilo Bernascone quanti anni hai? 29 anni ne faccio 30 il 23 novembre di quest'anno e ragazzi farò un bel festone spero di riuscire a fare un bel compleanno grazie mille a te Luca avete altre domande? aspetto qualche minuto ragazzi comunque vedo che cominciate ad essere sempre più interessati a questo tipo di dirette quindi ne faremo sempre più dirette interattive con le domande fatte prima e rispondendo in diretta per i corsi ancora non ho nulla di online quindi li stiamo programmando adesso ne avevo uno sabato 29 ma purtroppo per il coronavirus l'ho dovuto annullare cioè quantomeno spostare a data da destinarsi e Capitals è pronta le azioni sono già terminate manderò mail a tutti coloro che hanno la prelazione ma già me ne avete risposto già me ne avete chiesto quindi insomma problemi non ce ne sono Roberto Mevi ciao lollo non è una domanda hai una grande intelligenza finanziaria sei un esempio ti ringrazio Roberto e ti mando un bacio Antonio Musero ne vogliamo uno al giorno volete una diretta al giorno uno al giorno purtroppo non riesco a farla però diciamo che riprenderemo i ritmi come ne facciamo prima cercando di farne almeno due a settimana a questo punto ragazzi io devo andare a cena quindi vi saluto vi ringrazio tutti cercherò di salvare la diretta se Instagram non mi crea problemi salvo la diretta ve la metto su YouTube se ancora non vi siete iscritti al mio canale YouTube scrivete Rollo Scarsella su YouTube iscrivetevi e ci sono tutte le dirette che ho fatto in questi mesi vi mando un caloroso abbraccio vi ringrazio un bacio a tutti e vi raccomando go big or go home lo a tutti come Grazie.